Pietro ASMR Di costumi più che mai ovviamente è durante l'estate perché non si sa mai all'improvviso si rompe un costume il giorno dopo si deve partire quindi subito al negozio a comprarne uno nuovo Mi dica ok deve acquistare un po' di costumi tutti per lei oppure per varie fasce di età per la sua famiglia Famiglia intende sua moglie ok sua moglie no perfetto quindi lei e i due figli ok per lei e i due figli certo perché uno può intendere qualunque cosa per famiglia intera oppure per nucleo familiare Quindi chi ne fa parte ma non tutti ovviamente Benissimo allora è già stato qui da noi la prima volta che hanno consigliato Sì perché noi abbiamo un metodo molto particolare per andare a individuare i costumi Di fatto qui abbiamo un'intelligenza artificiale Sì di nostra proprietà e anche il negozio di vestiti L'ha già gestato? Perfetto allora L'intelligenza artificiale qui però è diversa rispetto all'altro negozio perché abbiamo un macchinario In cui dobbiamo inserire all'interno la foto dell'acquirente quindi di quello che vuole andare ad acquistare un nuovo costume E appunto la macchina andrà a studiare la visionomia l'aspetto di questo ritmo Individuando subito la taglia e i colori che si abbinano perfettamente a lui E quindi poi al computer vedremo sullo schermo le varie tipologie di costume che poi dovrò andare a scegliere per farle vedere Esatto sì è abbastanza particolare possiamo dire come sistema Non è insomma da tutti averne uno del genere Cerchiamo appunto di differenziarci dalla concorrenza Così che tutti vengano da noi a provare questo 2.0 che ormai va a circondarci sempre di più Con il passare degli anni e con le nuove tecnologie che vengono implementate Quindi la prima cosa che le chiedo è se per piacere può darmi una fotografia se ce l'ha qui Ok ha una foto con lei e i suoi due figli Perfettissimo guardi non potevo avere di meglio così facciamo anche prima una foto tutti insieme Allora ok grazie Perfetto Adesso direi che possiamo prendere la macchina Sì è un po' piccoletta Carina La foto che mi ha dato c'entra alla perfezione possiamo così dire Ed adesso ci vado ad inserire ciò che mi ha dato Quindi tanto dovrebbe riconoscerla anche se siete tutti insieme Quindi inserisco Ottimo Bene Allora la colleghiamo al computer Sì Ok Allora un adulto due bambini gli diamo perché un input anche noi dobbiamo darglielo perché se no Va a fare un po' di casino Allora qui Ok Perfetto Ok Sta scannerizzando Ottimo Dovrebbe aver fatto Ecco qui Perfetto Gli ridò la foto Eccolo Eccolo Venga Grazie Per avermela prestata Davvero degli splendidi figlia E direi ora che posso andare a rimettere a posto il nostro super scanner Essenziale del nostro negozio Perfetto Vediamo un po' le categorie che mi ha fatto scegliere Allora Bene Per lei mi ha scelto tre boxer Sono belli Sì In spiaggia quelli fanno un figurone E per i bambini E per i bambini gli slip Mi ha scelto Mi ha scelto Di due Tre Non so Adesso Tanto li vado a prendere E li vediamo insieme Ovviamente sceglie quello che più le piace Se poi il computer non ci ha preso È un po' un problema Rifacciamo la procedura manualmente È molto floreali sono i suoi Mentre quelli per i suoi figli sono un po' classici Ridici un po' Dei suoi gusti Ottimo Vedi che la macchina ci prende Allora sono nel reparto Occa due cinque Scaffa le quattro Ottimo Perfetto Li vado a prendere Torna subito Ottimo Trovati tutti Trovati tutti Sì 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 Li ho messi qua da parte E procediamo A dargli un'occhiata Va bene Partiamo dai suoi Perfetto Allora Parliamo box Davvero molto 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 Bello Assolutamente È Di una tipologia Questo qui Che trova Da poche parti Le marche selezionate Sono un po' Differenziate Sì ma Si basa soprattutto Sui gusti E sulla fisionomia Non su Su appunto Chi li produce Ecco Questo comunque sia È della Sundec Diciamo Marca leader Nel settore Costumi Sì Sì Eccolo Davvero bello Tanto tanto Questo io lo adoro Vedete Ha queste palme Un po' Sparse Su Tutto il costume Ha la vita Elasticizzata Ok Quindi È buono Scegliere di allargarla Qualora a un certo punto Risulterà stretto Oppure di stringerla Se la taglia Non è proprio Adatta Però Appunto è meravigliosa Perché con i cordigini Non basta che Tira E appunto Andrà a Ridurre Il diametro Della vita Se questi cordigini Hanno la scritta Sundec Poi sul retro Abbiamo sempre Una scritta Sundec Qui E c'è una tasca Dove puoi scegliere Di inserire Qualsiasi cosa Le serve In spiaggia Porretto Semplicemente Ovviamente Troviamo altre Due Tasche Anche Qui Davanti Quindi Dove sono Eccolo Una qui E un'altra Da questo Lato Si ricordi Di togliere Le cose Da queste due Sterne Perché Non hanno chiusura E quindi potrebbe Perdere Ciò che c'è All'interno Dentro È Ammaglia Com'è la struttura La meraviglia Di questi costumi Sundec E che li rende Davvero i migliori È appunto Il fatto Che si asciughino Subito Appena fuori Dall'acqua Cioè Una meraviglia Dieci minuti E poi Con il sole estivo E sono subito Pronti per essere Riutilizzati Senza doverli Mettere ad asciugare Come molte altre Tipologie di costumi Questo è dovuto Dal fatto Di avere Un materiale Meraviglioso Si Davvero Allora Questi costano Un pochetto E in particolare Il modello Questo qui Viene Sessanta Si Però davvero Bello Ok Intanto Lo mettiamo Da parte Va bene Allora Dovesse Sceglierlo Però Varebbe davvero Un buon affare Passiamo Ad un altro Che Credo sia Uno dei migliori È L'ultimo modello Di quest'anno Appena uscito Sto parlando Di lui Lo può vedere Ed osservare In tutto il suo splendore Siamo sempre Sul settore Sandec E settore Boxer Ovviamente E Che dire Se non Che è La Perfezione Questo costume È la perfezione È meraviglioso Proprio Esplode Di estate Diciamo Sempre Con Queste possiamo dire Palme Un po' Tutte Di colori Differenti Un po' Un verdino Un arancione Poi tutto Su sfondo Azzurro Cioè L'Evangelo Con questo La riconoscono Subito Proprio È illuminato Anche qui Troviamo Delle tasche Ed una Sul Retro Con questa Rifinitura Arancione Con Alambo E questa Tanta Tanta Roba Perché può mettere Qualcosa Che se si dimentica Di togliere All'interno È assicuro Perché è proprio Chiusa Ermeticamente Anche il telefono Secondo me Ci può mettere Allora La scritta Sandek La troviamo In fondo Sempre Con la scritta Arancione E il suo sfondo Azzurro Loro Targhettina Sì Anche questo Ha la vita Elasticizzata Con il cortino Sempre Basta che Tiri E si Ristringe E poi Un bel nodo Per tenere Tutto saldo Questa è una L Quello di prima Invece era una M Però sempre Con la vita Elasticizzata Si possono Trasformare Le taglie E il tessuto Sì Il tessuto In questo caso È ancora meglio Di quello precedente Perché è una nuova formula Si asciuga Sempre E super rapidamente Ma è molto Più Leggero All'interno Troviamo Una maglia Che è stata Ridotta Notevolmente Di Spesso E sembra Quasi Che non Ce l'ha Adosso Una sensazione Di libertà Anche questo Ha le tasche Laterali Anche qui Si ricordi Sempre Di togliere Le cose Però Questo Come dico Sempre Amore A prima vista Lo aggiudichiamo Lo immaginavo Guardi Lo immaginavo Io questo Lo adoro 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 E Viene 79 Questa tipologia Sì E beh Poi è l'ultimo Arrivato Ma Guardi Durerà Per anni 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 Se lo porterà Dietro Questo Meraviglioso Costume Poi La sua resistenza È unica È la perfezione La sand Che produce La perfezione Ok Quindi Questo Lo aggiudichiamo Lo metto Qui da parte Quindi Vuole vedere Un altro Boxer Veloce 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 E ne faccio vedere Uno Della Ralph Lauren Davvero Bello Un po' Meno Boxer Sì È più Corto È proprio La tipologia Di costume Abbiamo Il simbolo Della Ralph Lauren Qui In fondo Anche questo A vita Elasticizzata Sì Qui Appunto I cordicini E restringe All'interno Sempre Maglia Assolutamente Questo tessuto È un po' Più Pesantuccio Ed Ad asciugarsi Si mette Un po' Di più Rispetto Ai Sandek Però Comunque Sia con Questo Blu È comunque Un costume Elegante Sì Abbiamo Qui Una Tasca Ed Anche Dall'altro Lato È sul Retro Non sono Nessuna Chiuse No Non si possono Chiudere Queste Ecco Abbiamo Un altro Simboletto Molto Carino Che lo Distingue Ecco Non la Vedo Con Vito Lo mettiamo Da parte Non ci piace Va bene Va bene Va bene Passiamo ora Sui figli Che dice Bene Gli slip Gli slip Gli slip Vediamo 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 Allora Tanto hanno Quasi la stessa età Giusto Quindi stessa taglia Perfetto Allora Uno Eccolo Qui Questo slip Molto carino Della jacket Che è questa marca Leader Nel settore Nuoto Classico Slip Vita Elasticizzata Tanto tutto Elasticizzato Qui si vede Il computer Ha scelto Questo per voi E niente Interno Bianco Blu Come può notare Molto carino Classico Che dice Lo prendiamo Sì dai Tanto ai bambini Piace tutto Piace tutto Questa è una S S sì Va bene Ok Allora Lo mettiamo da parte Intanto E poi le faccio Vedere un altro Slippino Questo tutto Azzurrino Molto bello Dell'Arena Che è questa Super marca Assolutamente Guardate con la scritta Dietro Arena Con questa maglia Che si incoroggia Verde Sì Verde Molto Molto Chiaro E questo Azzurrino Di sfondo Davvero Molto Molto Bello Vita Elasticizzata L'avrò riperduto Non so quante volte In questo caso però Non ci sono Laccetti Quindi si adatta Proprio Alla vita Della persona Che lo va Ad indossare Sì Ed eccolo Qui insomma Beh carina Questa scritta Arena Con la maglia Che si incoroggia Qui In queste linee Sì 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 L'ha giudicato Anche lui Perfetto Ottimo Io lo metto Da parte Bene Io ne faccio vedere Un ultimo Che viene considerato Dal computer Come slip Ma un po' più box Solo che Ecco Vedi È un po' particolare A me piace molto Devo dirle la verità Con questo Rosso Qui sfumato Ai lati E qui la vita Sempre elasticizzata Con i laccetti In questo caso È molto molto carino Sì 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 Della spito Questa Della spito Questo qui Sì Eccolo Secondo me Ci può stare Per cambiare Un po' Dagli slip Vuole provare A prenderlo Per i suoi figli Un materiale Questo Che si asciuga Dopo un po' Però Va benissimo Per i bambini Sì Tanto poi Si attacca la sabbia Toso Sono contenti Quindi No Questo no Perfetto Allora Questi tre Che ha scelto Precedentemente Va benissimo Va benissimo Quello che vuole lei Guardi Allora Le prendo una busta Visto che ha preso Un sandec Le do Quella Sandec Ufficiale Sì È bellissimo Anche le buste Le fa meravigliose Con questo tessuto Che poi ci può mettere Le cose da portare Al mare Diciamo È super Irutilizzabile Sì Studia ogni cosa Meravigliosa Come marca Come marca Allora Allora Uno Due Il vero protagonista Si è confiata Si è confiata Spero che Si sia trovato bene Qui da noi Con Questa Nuova tipologia Di negozio Ecco Quindi Si porti sempre in giro Una foto dei suoi figli Con lei Così si deve fare Qualche acquisto Per loro E per lei È a posto Si spererà Credo siamo L'unico negozio Che ha acquisito Appunto Questa tecnologia Spero Di rivederla Un giorno Che dice Anche per il suo Amore Si dà E la porti qui Così facciamo Prendere i costumi Anche a lei E mi raccomando Di portare Quindi Una sua foto Prenda pure La posta Si E la mettono La cassa È da quella parte Così va A pagare tutto Grazie davvero Di averci scelto E soprattutto Di aver dato Fiducia In noi E insomma Dai L'aspettiamo qui Con sua moglie Che anche per le donne Abbiamo davvero Degli ottimi costumi Le sue scelte Inutile dirlo Che sono state Fantastiche Il computer Ci ha preso Sui suoi gusti Che ha visto Grazie ancora E arrivederci 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 Allora Quindi devo rimettere a posto I costumi Non presi E rinforzare a posto